Per quanto riguarda il nostro modo di lavorare, sul nostro menù potete vedere partiamo con un menù che cambiamo normalmente ogni 2-3 settimane, dipende dalla stagione e poi abbiamo un menù dai monti, 3 prime e 3 seconde, invece dal mondo abbiamo ancora altri 5 piatti. Normalmente spiego sempre il menù, abbiamo questo antipasto di benvenuto che verrà offerto in automatico ai nostri clienti per darvi un'indicazione usciamo con degli famous muscreddy e poi a seguire uno caldo. In menù invece abbiamo questo brodo brusain, è un po' un classico trentino brodo brusain perciò un brodo che l'ha portato in riduzione, un po' di pane dentro, il pane usiamo allo sciuto e rotto grattugiato e della farina perciò si porta in riduzione e sopra ci mettiamo dei ravioli che vengono padellati e in questo caso ripieni col poulet di breast perciò del cappone. Aggiunti alla fine dei plataioli e tartufo nero di norcia e crema di fieno sul piatto perciò è un piatto che vi posso consigliarvi, tipico della nostra zona. Il risotto con carotto di masso spinger, siamo in alto agio per quanto riguarda la zona di provenienza in particolarità di questo ricercatore che è andato a cercare veramente dei tuberi persi una volta perciò delle carote un po' particolari. Usciremo con questo risotto, con il risotto che verrà mantecato esclusivamente con tutto ciò che riguarda la capra perciò burro di capra, formaggio di capra, perciò questo gusto un po' acido del burro di capra. Poi alla fine andiamo a compensare tutto con una cremina che è fatta con delle carote gialle e carote di oro e in parte ci serviremo un pezzo di pancia, un cubo, un pezzo di pancia di maialino croccante e una salsia di giuzione. Il tonnarello di pane nero alle acciughe e botalga, qui i tonnarelli pensiamo un po' tipo uno spaghetto collato oppure una tagliatela fatta in casa e qui è stato fatto con il 70% di shooter blotte che è stato grattugiato e 30% di farina, logicamente un po' di uova così lega e viene spadellato con le acciughe perciò se vi piace il gusto delle acciughe, le acciughe dopo delle botalga sopra e come passo invece partiamo con una cremina che è fatta con le cime di rapo e dei fagioli. Questo è un bel piatto anche, ma deve piacere il discorso proprio dell'acciughe. Andiamo sulla main course, abbiamo uno stracotto di guancia e di vitello, perciò una carne da lunga cottura, viene servita con una purè di patate alla rossina, perciò tartufate con dentro un pezzettino di foie gras che viene lavorato col torcione e col torcione e con questo vino soldo autunno che vedete sotto, proprio il foie gras che è stato lavorato con questo vino soldo autunno che è un vino, un chardonnay portato in appassimento, un vino dolce. Allora qui abbiamo, come ripeto, lo stracotto adegiato sulla crema di patate tartufata, a fianco un piccolo filettino mignon di vitello bordato con del lardo e sempre a fianco delle amminelle impalate fritte. Ecco, questo è un bel piatto che erosicamente vi consiglio, il filetto di manzo razza rendena. Qui siamo in alta rendena, perciò questa mucca molto esile e carne pregiata, è una cosa pregiata che abbiamo in Trentina, proprio la razza rendena. Qui in questo caso il filetto con tre diversi tipi di bagossi viene aperto, a posto di servire un filetto grosso, ne facciamo due da 90 grammi, l'incirca verrà aperto, farcito con dentro le ortiche e con il bagossi 24 mesi. Viene cotto e adagiato sul piatto dove ci metteremo una fonduta di bagossi dolci mesi, a fianco un cubo di bagossi impanato e fritto, dopo viene accompagnato con delle chanterelle oppure finfalle, come li chiamiamo noi altro, e con del cavolo fiolaro padellato. Il tatac di salmone invece, qui andiamo fuori, per quanto riguarda la nostra regione, affinato nel pinamugo, perciò questo salmone viene prima affinato nel pinamugo, dopodiché viene cotto al forno, scaloppato e servito, è un trancio di salmone, due tranci che serviamo sul piatto, dentro una salsina che è fatta con radici di cerfogli e mirtillo. Sul piatto troverete anche dei tocchettini di salmone crudo, così ve lo facciamo assaggiare a crudo, e pak choi. Pak choi è una verdura tipo indivia belga, per dare un'idea cinese, per quanto riguarda l'origine. A destra abbiamo ancora cinque piatti, il primo, l'astici in crema soffiata, potete mangiarlo anche come primo perché non è un piatto invadente, qui partiamo con una crema di patate affumicata, viene sifonata nel piatto, c'è una crema molto leggera, dentro ci mettiamo dei medellioni d'astici che vengono padellati con del duro per il sole, dopo ci mettiamo dei caviari calvisi su scaglie di mandorle, aria di mandorle e tocchettini di peperoni pechiglion, peperoni dolci, un bel piatto che vi consiglio ovviamente. Il raviolo di aragosta invece qui usciamo sul piatto con una base, un piatto quadrato, ci mettiamo una salsina fatta con del pendolo, che è un pomodoro verso l'Italia, perciò ha meno acidità, perciò viene sformata questa salsina, sopra ci mettiamo tre ravioli che sono stati pieni proprio con l'aragosta, fresca logicamente e vengono cotti con salsina di aragosta, adegiate in fila sul piatto, sulla testa poi ci mettiamo un trancio di aragosta scottato e anche uno di scorfano. Un bel piatto anche qui, gocci di burrate e qui ve lo consiglio come primo piatto logicamente. Black Coat in olio cottura, Black Coat è un erluzio nero che arriva dalla nasca, arriva in Italia solo congelato, perciò viene tagliato in tranche, viene cotto in olio cottura, asciugato e servito nel piatto con una corea di radici di prezzemolo. Di agretti a Blue Blanche, gli agretti sono di asparagi selvatici per quanto riguarda le tecnologie, Blue Blanche di fragoline. Qui viene accompagnato anche con delle baby zucca e delle patate viola. La ventresca di tonne, Valfegò, prestigio anche per quanto riguarda questo tonne. Valfegò viene scottato in forma, tagliato in tre tranci, adagiato sul piatto. Come base ci mettiamo una salsina fatta con delle abicocche padellate, del mango padellato come base, sopra questi tre tranci di tonno e sopra questo pesce ci adagiamo dei carciofi padellati, padellati proprio al momento, e chiudiamo con aria di sedano. A fianco ci serviamo, tipo un binario, due filettini di baffegò crudo e delle sfere di abicocche, un bel connubio. L'ultimo, Kagoshima, Vagyu, all'agro di Heretz, patatlerate, scalogno asparagi. Kagoshima è una città che si trova a sud del Giappone. Tanta gente conosce benissimo il core, Kagoshima è anche forse un po' più importante. Comunque, è una carne marmorizzata, Vagyu sta a indicare non la razza, bensì manzo giapponese, la razza sarebbe un Tajiama. Comunque, è una carne marmorizzata con delle marazzature abbastanza importante. È un roast beef per quanto riguarda la tipologia di carne. Tagliamo normalmente un pezzo da 80 grammi, 80 grammi viene rosolato in padella con un po' di burro e adagiato su una base di patate levate, un frungo shiitaki come contorno, un pezzo di frungo shiitaki sempre giapponese e poi degli asparagi e una salsa di riduzione allo Heretz con uno scalogno che dà un po' di dolcezza. Questo è tutto il nostro menù per quanto riguarda la parte che vi ho spiegato dal menù. Poi, in ultima frange, eventualmente, c'è anche il menù degustazione. Il menù degustazione è un menù che...